Giorgia Meloni ha affrontato una serie di questioni pressanti durante il punto stampa a margine del suo incontro bilaterale con il primo ministro canadese, Justin Trudeau, a Toronto. Meloni ha sottolineato la grande convergenza e l'interesse suscitato dalle priorità della presidenza italiana del G7, sottolineando l'importanza degli scambi con gli Stati Uniti e il Canada. Tra i primi argomenti sollevati dai giornalisti ci sono le polemiche riguardanti le manganellate contro alcuni studenti a Pisa, condannate anche dal presidente Sergio Mattarella. Meloni ha ribadito la sua preoccupazione riguardo alla rimozione del sostegno alle forze dell'ordine, ma ha smentito ogni interpretazione che vedesse le sue parole come una critica al Quirinale. Ha chiarito che il suo riferimento non era al presidente Mattarella, ma alla sinistra politica, accusata di non esprimere solidarietà alle forze dell'ordine e di usare la figura del presidente per ostruire la riforma del premierato. Meloni ha respinto eventuali malumori filtrati dal Quirinale, affermando che quando il presidente ha qualcosa da dire, lo comunica direttamente. Ha precisato che i rapporti con il Quirinale sono ottimi e che non vi è alcuna divergenza su questo tema. Infine, la premier ha riconosciuto la possibilità di errori da parte degli agenti di polizia e ha ribadito che sarà compito degli organi preposti valutare la situazione in merito alle manganellate. A Pisa!